Sì, perché il mister l'aveva preparata come sempre nel migliore dei modi e noi siamo una squadra che, come dire, deve avere sempre la percezione del pericolo, no? E invece ci siamo fatti, siamo stati un po' sorpresi di come si sono messi loro, non siamo riusciti ad andargli a prendere e invece di in campo, di compattarci e di tenere botta, siamo andati un po' come dire, uomo contro uomo in tutto campo e all'Aquila non glielo puoi permettere. Quindi, peccato, però ci abbiamo provato, però penso che poi alla fine l'Aquila abbia meritato sicuramente per il gioco e le occasioni sviluppate. Ti chiedo schiettamente, bisognava avere un po' più di coraggio anche nelle giocate dei singoli? No, secondo me ci abbiamo avuto troppo di coraggio, perché noi siamo una squadra che si deve mettere tutti là, pallonate, via, per giocare. Noi siamo una squadra che deve riuscire a... è una battuta, è un paradosso il mio. Noi invece secondo me siamo stati troppo coraggiosi perché abbiamo fatto uno contro uno a tutto campo e il primo tempo, secondo me è eccessivo. Però ecco, i ragazzi non gli posso dire nulla perché poi alla fine se sentono di interpretarla così è perché si sentono forti, perché vogliono... E quindi bene così abbiamo preso una lezione, come giusto che sia, e quindi le lezioni bisogna impararle. Possiamo dire, tra virgolette, non era questo lo stadio, non era questa la partita dove andarsi a prendere tre punti, ma raccogliere un po' di certezze rispetto a quello che era stato fatto nel passato e buttare uno sguardo verso un futuro sempre più complicato, visto la qualità e visto l'equilibrio di questo girone. Sì, sì, non era questo sicuramente proprio quello per andarsela a giocare petto a petto con l'Aquila, però ripeto, noi nell'ultime undici partite, da quando è arrivato il mister, avevamo più o meno gli stessi punti, credo. Quindi i ragazzi penso se la siano dovuta venire a giocare a viso aperto, con un po' più di attenzione secondo me la potevamo portare qualcosa a casa, ma ne vedo l'Aquila, non ne vedo niente, anzi secondo me per il gioco e le occasioni soprattutto che ha avuto, secondo me ha meritato anche di vincere. Sei un ex importante, allora ti chiedo, allargando un po' lo sguardo, uscendo dal comune di Tivoli e da quello Aquilano e andando a toccare un po' tutto il girone, che tipo di graduatoria ti aspetti alla fine? Non adesso, perché i valori bene o male sono quasi tutti definiti, ma secondo te c'è ancora margine per le formazioni che inseguono il campo basso per andare a riprendere i molisani? Mi auguro di sì per un motivo fondamentale, a parte è ovvio che facciamo il tifo ormai che sono abruzzese, quindi per le abruzzese, però mi auguro di sì perché domenica ci abbiamo il campo basso, quindi speriamo di batterlo e di fare un favore a chi il segue, ecco questo sicuramente me lo auguro con tutto il cuore.